L'operazione delle DDA di Potenza e Lecce ha confermato ancora una volta che il ballo di Diano è al centro di operazioni di diverse pericolose organizzazioni mafiose, uno stato parallelo che attraverso attività commerciali e legali incassa milioni di euro per poi investire il profitto in attività imprenditoriali a danno delle persone oneste e perbene. Le indagini che hanno consentito di accendere un faro su diverse attività illecite e bloccandole ci fa sperare che non tutto è perduto. Chi sbaglia deve assolutamente pagare. Quando gli errori compromettono il futuro dei nostri figli allora bisogna essere ancora più intransigenti. La cosa che fa ancora più rabbia è l'utilizzo della nostra terra per attività criminose che seminano inquinamento, pericolo e morte. Dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione. Chiederò, fa sapere Pellegrino, sia alla Commissione Antica Morra e sia alla Commissione Attività Produttive un'audizione sui temi dei rapporti tra economia e criminalità organizzata. Nel frattempo esprimo la mia gratitudine ai magistrati e alle forze dell'ordine che hanno portato avanti questa importante inchiesta. Lo ha detto Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e capogruppo d'Italia Viva in Consiglio regionale.